Sport, territorio ed enogastronomia, la Chianina ciclostorica propone quest'anno un omaggio a Felice Gimondi cui viene intitolato il percorso da 77 chilometri. Un connubio fra territorio, sport, enogastronomia e tutto quello che è la nostra tradizione. La Chianina, la Val di Chiana insomma, dopo noi abbiamo detto Chianina ciclostorica e abbiamo appoggiato un'idea fantastica nata d'eroica di ritirare fuori una bici vecchia e fare una bella passeggiata per strade secondarie, apprezzando territorio, paesaggio, enogastronomia però ci siamo impegnati anche a creare tre giorni di evento. Abbiamo all'interno di questa esperienza non solo lo sport come ha detto lei ma anche la possibilità di riscoprire il territorio che non è solo nel nostro comune ma anche nei comuni limitrofi e ovviamente mangiare anche delle buone cose dai pisci alla bistecca a quelle che sono le cose tipiche della Val di Chiana. Coinvolte anche le scuole. Siamo andati a sensibilizzare l'uso della bici e l'abbiamo collegata a quello che è il nostro Fiora Rocchiella il Chianina Comics, una rassegna di grafica umoristica perciò abbiamo spiegato e chiesto di fare un disegno sulla bici ne sono arrivati 150, uno spettacolo ne sono arrivati 70 disegni da artisti di tutta Italia per il concorso Chianina Comics. Nel merito del concorso anche un omaggio a Giacovitti e poi domenica alle 8.30 tutti sulle due ruote vintage. Grazie a tutti.